Buongiorno Fruiting porc*****o No no, parca Ninja to the beat y'all Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Kino e oggi voglio portarvi un episodio che mi è successo praticamente in serata Voglio condividerlo con voi raga Fatemi sapere con quanti più like possibili se questo episodio vi è piaciuto Intanto vi anticipo già che domani uscirà un video pazzesco Volevo portarlo oggi ma ho preferito posticipare per riuscire a editare meglio Comunque mi serve ancora del tempo Vi lascio la visione di questa clip Bella raga Moltissimo raga mi sono dimenticato Nel momento in cui questo video uscirà ovviamente io ho estratto i vincitori del contest di ieri Non preoccupatevi se non avete vinto ne pubblicherò quanti più possibili raga Restate sintonizzati sul canale Ci saranno anche live in cui ovviamente l'ho già detto ieri Ma ci saranno anche delle live in cui comunque giveremo la roba Siamo sempre in concomitanza io e Reklaus Vi invito a restare sintonizzati Bella raga Posso? Vai se tu volevi Sì sì Due? Due? No due non ce la faccio con il motore Ok Eeeh Ma tipo se ti chiedo di truffare uno lo puoi truffare No ma lo posso trollare Lo possiamo trollare insieme Non credo è benissimo Ha truffato l'angelo non mi ha truffato Cioè io volevo vedere le mie armi Per me mi ha detto va bene Come hai chiesto di farmi vedere le armi E questo va bene tanto lo troppo e me la prendo subito Lui già aveva diciamo la cosa Ah per questo è l'unico Questo è l'angelo 110 E' online ora? Eh sì Ok Aspetta arrivo subito Ma lui cos'è? Non ho capito se sei veramente inglese No 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 Sono inglese Ma tu come hai fatto a uscire a Rini? Eeeh Io mi sono bugato Non do per dire però no Se mi fate sbaggare mi fate pure Cosa avevi messo? Io niente Ah tu sei rimasto chiuso dentro Scusa arrivo aspetta No non sono rimasto chiuso dentro Sono bloccato Tu c'è per me sia Rini? Eh no Oddio bella Allora Allora Si va bene però io sono rimasto investito Eh ti devo preparare un attimo il minigioco Ok ok Aspetta Il prossimo ti interessa te Ti interessa te Ah vabbè Che armi si interessano? Si 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 Boh quel Così si Ok Ok Basta che mi fai sbaggare da qua perchè non mi mostro Eh aspetta se lo guardiamo Ah Oh Dai Oh Non ci sono Non ci sono Non ci sono Ecco Un beve siete amici Amici Sono a forums Senta super Ma potrebbero Allora Allora Ma potrebbero Ma potrebbero No 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 vii qua Eh io c'ho tutte armi al 130 ora fermo lì se riesce a prenderlo prima che io distruggo no sei morto questo questo regalo mio amico che purtroppo è livello due regalo lui sei morto era solo primo premio guarda il secondo non lo vuoi vedere però era quasi finito con la scovafoste te lo volevo dare uno nuovo ora dai vieni hai fatto una cosa che praticamente vieni va dragon giochiamo ancora sì la macchina tra 35 secondi o non posso venire perché tu hai messo praticamente vabbè oddio dall'altro successo ho fatto il gioco da me da me le armi vabbè allora spiace il gioco consiste in questo scuro devi riuscire a uscire dalle e poi io ci sono riuscito con qua davanti qua davanti ti ho troppato uno scaroro al 130 un pompa al 106 ma lo sai che 0,7 per cento impossibile se riesce a liberarti dai vabbè allora i bottini abilità no mi riavviato da solo è privata non potete entrare no si è leggera a quanto si fa il trucco più facile del mondo per la spiegato lui si 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 ma non 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 vabbè tra le trappole al 130 ti dico tutte le fibrose di mona fu ting porco questo perché hai provato ad essere inglese con noi e hai provato a truffare anzi è truffato a reni e questo che mi fanno i truffatori continueranno a morire e continueranno a morire e animarsi morire di animarsi cosa che per dire però vabbè però non scava fosse quasi finito in tasca alla fine teneva abbastanza contento sì tanto basta che abbandono e intanto la roba già l'è fatta o uno scavato una scuola forse 130 mica lo butto quasi pieno vabbè sì cazzi marco rini se ti devo dire vini mi ha presso anche per il culo e animato momento per giocare con lui no maia però è come hai visto lui ha detto la verità lo pigliavi per il culo e guarda ogni volta ogni volta ogni volta e quando entrava nel party mesco e leva c'è la eri proprio stronzo per dire cioè io alla fine mi sono vendicato se non mi ha fatto adesso così no marco ci devo riuscire aspettati che si è stato molto stronzo non è per dire però l'occasione per parlarne e risolvere tra voi ma e risolvere cosa perché noi ci siamo conosciuti non parte di una persona poi è stato un po stronzo che mi cacciava dal party io volevo giocare con lui invece mi abbandonava sempre di canale no allora raga l'unione fa la forza su questo gioco ovviamente andare d'accordo treni tra il resto e vantaggio entrambi siete tutti e due livello 40 e livello 49 io abbiamo ho vissuto più o meno lo stesso gioco con mio fratello e lui aiutava meglio aiutavo lui perciò non ne vale la pena truffare la gara anche perché sono materiali del gioco dai ora vi libero a tutti e due ok ora vi libero tutti e due marco qui a prezzolone fa e venne andate entrambi questo l'ha preso dragon tieni arini non ci appogna anche per te speriamo che potrete giocare insieme e qualcos'altro dai tieni per i morti al bambino sotto quello che mi ha truffato non ci appogna anche per te speriamo che non ci appogna anche per i morti al bambino sotto io benissimo adesso sono arrivami a tutti i morti al bambino sotto per te speriamo di essere aiuto non ci appogna ngoci al bambino sotto per me mi piace Grazie a tutti.